Bentornati a tutti sul mio canale, io sono Majin, nuovo showcase, oggi andiamo a showcaseare il trio OG del GT, ovvero quello composto da Goku Super Saiyan 4, Vegeta Super Saiyan 4 e chi se non Baby 2. Personaggio che a mio parere resta tuttora praticamente fondamentale per far rendere bene questo team e ve ne accorgerete voi stessi vedendo questo showcase, confrontando i danni ma soprattutto confrontando anche il recupero degli HP rispetto allo showcase di ieri mattina dove sì, teoricamente giocavo la line-up migliore, più completa per il GT, ma ripeto, non è quella che fa rendere bene il team. Al team GT serve un personaggio che faccia il mestiere di Baby oppure serve direttamente un suo Zenkai. Una delle due raga, fino ad allora a mio parere il team non sarà assolutamente completo e non sarà ai livelli degli altri team top meta. Prima di cominciare con lo showcase però vi chiedo come al solito gentilmente un like sulla fiducia per il supporto e dopodiché se anche tu fai parte di quel 33% delle persone che guardano abitualmente i miei video ma non sono ancora iscritte al canale, broschi o sista, prendi in considerazione l'idea di iscriverti perché ci sono video nuovi tutti i giorni, contenuti nuovi tutti i giorni, aggiornamenti su quando vado in live e in più mi dareste un gran bel supporto verso il raggiungimento dei 30.000 iscritti quindi iscrivetevi raga, iscrivetevi. Detto ciò, vi lascio a Baby. Sigla! Vi faccio vedere gli equip raga No mi scliccato, stupido me! Uncentriamoci! Ok! Ok, gioco! Oh, sto preso! Ok! Ottimo, 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 qua lo roviniamo! Perfetto, c'ha hit! Roviniamo anche te, Jiren! Sì, grazie per il lag, per il drop! Perché deve laggiare così? Sì! Ai, 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 ai! Oh, ok, ho fatto da parte a parte praticamente! E tu muori qua! Che sberle stiamo tirando anche di strike! Not bad, not bad! Oh, no, 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 no! Andi? Oh, no! G, G, ah no, torna in vita? No, era già morto una volta. Perfetto, G, G. Uh, furtunello. No, brutto, ma brutto brutto brutto. Però poi almeno tancheggiamo ora. Ok, mai fregato. Oh, metà HP, ma bro. Eh sì, eh sì, vado, se non volevo certo che tu mi interrompessi così la combo. Ok. Questo è meno ok. Baby, mi serve il tuo potenziale offensivo qua. Danni extra sugli androidi, vero? Manco la main ability mi fai usare, che è l'unica cosa che voglio di sto baby. Oh, kappa. Vamonos. Vamonos. Va bene, muori anche tu, Beerus. Questa ti fucila. Ok. E non puoi switchare. Baby. Attenzione, raga, che baby. Baby. Win. Screen. Contro un green, green yellow. Incredibile. Incredibile. Vapu. Chil, chill, chill. Chil, chill. Chil, chill, chill. Ok! Ok, peschiamo! Ahahahah, non ci ho pensato! Nice, nice, nice! Baby, Goku, mi servono i tuoi danni extra sui Saiyan! Fammi vedere che sei pazzo sgravato! Fammi vedere quanto sei pazzo sgravato! Vai, 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 mettiti a tacere sto Goku Super Saiyan 3! Mettilo a tacere! Perfetto! Ok! Solo Baby raga poteva compiere quest'impresa! Solo lui! Questo è Blast che curano! Guardalo con superiorità! Non era manco un Super Saiyan! Ohhhh, timing sbagliato! Baby! Sei un muro! Sei un muro, Baby! Guarda che cannonate che tiri, Baby! Oh no, Baby! Oh no, ma Baby! Baby! Non ce la fa comunque a buttarcelo giù, eh! Non ce la fa, non ce la fa! Basta però, bro! Voglio un Windscreen con Baby! Dammelo, fammelo fare! Bastano questi danni! Non penso! No, infatti, non bastano! 9-5-1 ci basta, sì! Sì! Grande, Baby! Secondo Windscreen con Baby! Sudatissimo questo! Oh, anch'io l'ho fatto. Ovviamente però la tua non mi feinta. Ok, tankeggiamo con lui. E Broly dice no, no. Ok, attiviamo subito. 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 E lasciamo. Proviamo gli strike. Ok, ottimo, ottimo, ottimo. Broly pure, se ne va. Tankeggiamo con Baby. Baby tanka tutto. Quasi. Baby tanka quasi tutto. Te lo lascio, te lo lascio, te lo lascio. Non lo so. Sì! Switch per i buff! Nice! Goggieta. Goggieta. Già. Goggieta. Goggieta. E ultimati, ziamo! Goggieta. Mi sa che ti spacco. Mi sa che ti spieto in lui. Yes. Goggieta. Goggieta. Let's go. Look at me. E GG Voleva farsi colpire raga Voleva farsi colpire Sì sì prima l'ha voluto debbaffare Completamente poi un bel Raising Rush Poi ho detto vabbè io quitto La mia missione qua è compiuta Ok Tanca tanca baby Sei un carro armato baby Noise Drodrok Ok Lo siamo anche noi Pescati prego Goku Tardi Tardi per le mie skill Ok incassiamo 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 Baby Saltino preso al volo Raga glielo rusho subito Perché è mega scomodo sto personaggio Voglio farglielo fuori O almeno ci provo Perfetto Perfetto Nice Noice Giù amonos Raga dopo la Mandy baby Fanno tutti un male cane Ma proprio un male cane GG GG raga GG 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 Se non quello di prima Noi Noi No ma pesca ancora qualche blast Goku Che vai fortissimo con le blast Che vai fortissimo con le Eh, Veceta lo vedo un attimo in difficoltà in questo matchup! Giusto un attimo in difficoltà! Ottimo! Ok! E rushiamo! E vamonos di rush! Ok! Ok! Baby! Tanca! Aiutami tu! Ok! 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 Push! Tardino! Questo no, arriva però quantomeno il tuo racing rush se n'è andato! Baby l'obliteratore! Baby l'obliteratore! Ok! 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 Vai Baby! Sentite la musica sotto! Epica per Baby! Sì! Oh! Clash della vita! No! No! Che schifo! Che schifo! Ma Baby credo in te! Credo in te! Credo in te Baby! Credo in te Baby! Credo in te Baby! Raga Nerfate Baby!